Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video voglio parlarvi di queste cuffie wireless che ho acquistato su Amazon ad un costo di 70 euro circa. Costo che naturalmente potrebbe essere soggetto a sconti nel corso del tempo. Il costo varia ovviamente a seconda della versione che decidete di acquistare. Perché ho acquistato delle cuffie wireless? Perché streammando su Twitch il più delle volte da console ero costretto ad abbassare il volume della TV attraverso la soundbar per non riprodurre due volte il suono del gioco durante lo streaming. La mia Smart TV non dispone dell'ingresso per le cuffie ma solo dell'HDMI chiaramente e dell'uscita ottica. Quindi del cavo ottico. Sono andato alla ricerca di un paio di cuffie wireless che si appoggiassero al cavo ottico per funzionare. E ho trovato queste cuffie e le ho acquistate alla cieca come si suol dire. Quindi in questo video vi dirò la mia. Allora partiamo prima di tutto dalla basetta. La basetta serve non solo per ricaricare le cuffie che vanno posizionate in questo modo ma anche per permettere alle cuffie di riprodurre il suono della TV all'interno delle cuffie attraverso la basetta. In altre parole collegate la basetta ad una presa di corrente alla fonte audio nel mio caso cavo ottico oppure con il classico jack per questa versione. Se acquistate la versione alternativa non c'è il cavo ottico ma c'è l'RCA. Una volta che avete collegato la basetta alla corrente e alla fonte audio dovete ricaricare le cuffie. Quando acquistate le cuffie sono scariche per ricaricarle dovete posizionarle vedete in questo modo e si accende un led verde qui che indica la ricarica delle cuffie. Una volta che la luce si è spenta le cuffie sono cariche e pronte per essere sincronizzate ed utilizzate. La connessione avviene istantaneamente. A cuffie spente tenete premuto questo pulsante per diversi secondi si accende prima un led rosso e poi si accende un led verde lampeggiante di qua. Collegate questo alla presa di corrente e la comunicazione avviene istantaneamente. da questo momento potete utilizzare le cuffie wireless per ascoltare l'audio proveniente dalla tv. Ora le cuffie esteticamente parlando non sono male. Sono anche abbastanza comode sono leggerissime come la basetta non pesa un accidente. Anche le cuffie sono veramente leggere ma leggerissime non leggere il che dà la sensazione di trovarsi davanti un prodotto scadente. Un paio di cuffie economiche di bassa qualità. Ma vi posso dire sinceramente che la qualità audio mi ha sorpreso. Ora non aspettate di bassi alti esagerati cioè non hanno il diciamo la qualità di un paio di cuffie professionali eh si intende. Però permettono di ascoltare il volume della tv ad un volume abbastanza alto senza compromettere la qualità. Sono comode non estremamente ma abbastanza comode da indossare e se le utilizzate in estate suderete abbastanza perché sono calde. Ve ne accorgerete subito una volta che le indossate. Grazie a queste cuffie potete ascoltare il diciamo il vostro programma televisivo preferito, il film, l'anime, il videogioco e così via dicendo attraverso le cuffie via wireless. Le cuffie si ricaricano in sette ore circa e hanno una durata di diversi giorni. Ovviamente a seconda dell'utilizzo se diciamo le utilizzate tutto il giorno non aspettatevi diverse giornate ma se le utilizzate per diverse ore al giorno e le riponete ci fate un bel po' di giorni. Naturalmente è sempre consigliabile a fine utilizzo posizionarle in questo modo per ricaricarle. Da prestare attenzione ad una cosa che le cuffie vanno chiuse prima di essere ricaricate perché se le posizionate in questo modo non le ricaricate quindi vanno chiuse in questo modo qui e dovete assicurarvi che questo diciamo componente si agganci perfettamente qui vedete per ricaricarle quindi le lasciate in questo modo qua e si ricaricano gradualmente tramite i led qui potete diciamo vedere lo stato di carica. Le cuffie dispongono di diciamo batterie integrate nella cuffia qui dentro ora non faccio forza altrimenti rischio di romperle ma ci sono due batterie ricaricabili quindi potete ricaricarle con la basetta o in alternativa smontare qui il il driver rimuovere le batterie ricaricabili utilizzare quelle classiche però in questo modo dovete sempre fare stacca attacca stacca attacca quindi è sconsigliato. Che dire le cuffie sono comode hanno un certo costo non sono economiche ma nemmeno troppo costose vi permettono di ascoltare l'audio con una buona qualità non eccellente ma buona qualità sono molto molto leggere estremamente leggere quindi diciamo l'acquisto è consigliato soprattutto se come nel mio caso fate streaming su twitch con un microfono esterno non da pc e quindi avete bisogno di un paio di cuffie per poter ascoltare il gioco mentre parlate poi con un microfono esterno è stato un po' di tempo per poter